terza canalizzazione di fatima la conclusione del tour a fatima portogallo 15 settembre 2017 saluti miei cari sono crayon del servizio magnetico siamo alla fine dei tre giorni di eventi non è un caso che sia un 3 il 3 spesso rappresenta l'energia del catalizzatore quando un'energia ne cambia un'altra molte cose sono state dette e viste e all'inizio dell'evento vi ho parlato di Lucia vi ho accompagnato attraverso quello che ha visto perché è stata scelta l'innocenza e la bellezza di una bambina il tour vi ha portato effettivamente nei luoghi in cui i fatti sono avvenuti vi ha mostrato gli edifici mantenendo rispetto per quello che la vide per l'informazione che la ricevette e sicuramente per i miracoli che accadero vi ho ricordato l'energia del maestro e il messaggio che era veramente tutto ciò che c'è il messaggio è amore vi chiedo di cominciare a riformulare le cose che pensate vi ho parlato della griglia cristallina e di come essa può memorizzare gioia vi ho parlato del passato della frequente memorizzazione di sofferenza e di come ci fu l'inizio del cambiamento e ora sto per rivelare qualcos'altro miei cari il messaggio non è lungo ma non lo dimenticherete perché il messaggio è profondo il messaggio riguarda voi riguarda il portogallo o cari questo è un paese dolce ma i confini della terra vi hanno trattenuto qui anime antiche per molto tempo vedete che la cash qui è molto ricco a causa di quello che è successo e non solo negli ultimi cento anni ci sono alcune culture che ho descritto in questa che chiamate Europa e le culture avevano quello che definirei a cash spirituale naturale e non vi ho mai detto questo prima non così voglio che torniate indietro nel tempo con me Fatima ha una grande storia bellissima un'energia così grande voglio che torniate indietro prima che questo sia mai accaduto e voglio che risaliate di altri cento anni e poi di altri cento anni devo fare una dichiarazione non freintendete la cittadini del portogallo questa è la mia dichiarazione non è la chiesa che ha portato spiritualità al portogallo molto prima che essa arrivasse qui c'era una luce che fuori usciva dalla terra qui c'era gente gentile che conosceva Dio che visitava i chakra e i portali e le lie lines qui prima che qualsiasi cosa accadesse lo sentivano questa è una cultura spirituale e a prova di questo il vostro a cash è ricco di celebrazioni e canti e gioia e risate prima che le dottrine arrivassero qui questo è chi siete una cultura di luce questo è quello che c'è nel vostro a cash è miei cari voi volete sapere da dove viene questa trasformazione dalla colpa forse dalla tristezza forse alla gioia è già qui perché è nel vostro a cash portoghese miei cari nella energia più vecchia quando non c'erano ancora molti umani sulla terra il sistema delle vite precedenti era molto più semplice gli italiani tornavano come italiani più e più volte con la loro famiglia karmica ripetutamente e i portoghesi tornavano come portoghesi più e più volte ripetutamente voi possedete questa terra da migliaia di anni anima antica ecco chi c'è qui non lo senti voi possedete la luce qui voi possedete la luce qui non fu creata da un'organizzazione magari l'ha valorizzata oppure no sta a voi stabilirlo e questo è quello di cui sto parlando ora i portali erano qui non li sentite i luoghi di potere erano qui la dolcezza della vostra cultura era già qui non lo trovate interessante non lo trovate interessante che la nobiltà attraversò l'oceano verso un'altra grande terra quella che parla ancora la vostra lingua fino ad oggi anche loro hanno il vostro Akash e per cosa sono conosciuti? cantare canzoni ballare bellezza compassione questo è il vostro Akash questo è il loro Akash state cominciando a mettere insieme le cose? tutte queste serie di incontri potrebbero essere etichettate come qualcos'altro un ritorno all'energia originaria ancestrale della madre terra questo siete voi questo qui è dove lo ottenete questa è la trasformazione non viene da un'altra fonte viene fuori direttamente dall'antico Portogallo vorrei che cominciaste a studiare la storia antica che vedeste se vi menzionavano i portali o se forse consideravano queste aree e i chakra del pianeta che sono qui come quelli in Italia e Ungheria e cosa era Ungheria? non è ovunque miei cari è quasi come se luoghi selezionati diventarono confini e lingue e culture e altro ma il vostro è il più dolce e la luce è la bellezza e la celebrazione e i canti dell'amore di Dio questo è il messaggio del giorno Fatima è un pezzo della vostra storia ma un pezzo così piccolo la vera luce c'era molto prima di ciascuno di questi chi lo dice? lo vedete negli studi dell'antichità l'eredità oltre l'oceano da parte dei vostri fratelli e sorelle che hanno preso la loro lingua da voi e il loro Akash e forse anche loro canti vorrei che lo vedeste e lo riconosceste e se vi siete mai chiesti come poter mai riformulare le cose come forse la sofferenza nel vostro Akash le guerre tutte le cose negative che si sono verificate nei secoli la risposta è che state invece per incominciare a ricordare l'antico Portogallo quando la luce era pura molto prima che dottrine vi si sviluppassero questo è il messaggio lascereste questo posto? vorrei che sapeste chi siete ricordate se siete di questo posto le opportunità sono che il vostro Akash sia ricco di centinaia di vite la terra vi conosce e voi conoscete lei da molto più di cent'anni fa l'eredità di luce è nel vostro Akash questa è l'eredità del Portogallo e così è